E' lui, spieghi. E' lui, è lui. Le foto che abbiamo fatto io, Marco, la cara... Ce l'ha notita su quelle foto? Non ce le hai. No, è andata a finire male su quelle foto. Dopo ti spiego. Adesso? Allora, praticamente, quelle foto lì... L'ha fatto il poster. Da mandare in Africa, no. Spieghi. Allora, quelle foto lì... Ehi, mamma, prima va bene, eh? Eh? Prima piano, avanti, dietro, di piano. No, più che altro i fianchi. Eh? I fianchi. Ecco, vediamo i stacchini. Vai, vai. E lui, i stacchini. Vieni a fare il bando, fa il tuo vero. Ecco, vediamo i stacchini. Oh, l'amica mia. Ecco. Cod'è? Un obiettivo. Salve, buonasera, ingegnere Tacchini. Allora, Cinarri, cosa sta facendo qua in questo posto? Ah, ecco, vedo. Tutto bene, eh? Sì, ma... Cosa? Mi ricapri. Come è niente? Mi maccio il calcetto per esempio il problema. Eh, già, andata, ma fanno partire, eh? Quindi qua. Cosa? Come è niente? Come è niente? Vici? Vici? Cosa? Vici? Vici? Vi? la macchina dopo il cuore dopo il cuore dopo il cuore dopo il cuore stiamo facendo di fare la macchina stiamo facendo di lavorare stiamo facendo di lavorare il gas nemmeno vedere il cuore del filestino non ci vuole dire porca miseria ecco vediamo anche qui da che scappa mica se abbiamo le prove eh? abbiamo le prove tre re cosa si vince? ma tu hai capito che la cina è presa eh? no la fa da vendere no bè anche se tu mi metterla via tre re cosa si vince? qui niente qui nemmeno tre re centomila eh? tre eh guarda qui qua uno due tre aspetta un zoomare dentro aspetta metti il cuore metti vedi che diventa più però puoi zoomare di meno non continuare a schiacciare questo no no adesso c'è poco zoom perchè c'è il guai eh vedo se lo tiri via guarda che zoom ti ha dobbiamo fare una zoomata no 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 lo voglio vedere se si allontanaci lo stai registrando lo stai registrando devo dire che bello sei avanti o dietro tutto quello zoom che cos'è il suo zoom questo qua così come sei avanti o indietro allora così sono verso di me ecco stai tutto indietro e così più verso di te no no eh siamo qui eh vabbè 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 si adagio con quella telecamera sullezio si ho finto fuori piove quello è il motorino del BOP adagio con quella telecamera si è morto quando si sporti non dici ma devi schiacciare il bottone non metto il dito non metto il dito si è morto 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 sorriso ciao brisky dai sorriso dai stava sempre a te da bello stava sempre a te da bello no non potete non potete non potete non potete non potete non potete vedi c'è aria c'è aria guarda ma anche te le camere vai distruggi vai garghi vediamo il volto del garghi a a a a a Grazie. 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 Rimon subscribe. Rimon subscribe. Uvaro, uvaro, uvaro! No, 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 non è mio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.